Allora a quanto pare è stato aggiornato l'eShop di Nintendo, ma ci ha messo veramente un attimo per cui mi sembra strano, però adesso la grande novità è che invece che dirti devi aggiornare la console, se provi ad entrare dentro l'eShop ti dice con quale utente vuoi entrare per proseguire accedi con un account Nintendo, io non ho nessun account Nintendo, cioè se accedi che crea un account, quindi mi viene da dire si può importare e accedere anche con il proprio vecchio account Nintendo, facciamo crea account così vediamo cosa succede, preparazione in corso Allora crea un account Nintendo usando un dispositivo smart o un pc, quindi non si può creare un account direttamente da dentro la console, ricevi via email, istruzioni per creare l'account, assurda questa cosa, ok, stop, crea un account sul computer e poi torno qui, ok, dovrei aver fatto, allora torno indietro qui, evidentemente appunto non c'è ancora, semmai ci sarà un browser dentro questa benedetta console, quindi l'unico modo che hanno per farti creare un account è dirti apri e vai su un computer, accedi, faccio ora, vediamo cosa succede, accedi con indirizzo email o di utente, accedi usando un altro account, quindi addirittura mi permette di accedere con Facebook, vediamo se è vero, non ci credo neanche, perché come fa, accedi tramite Facebook, vediamo, vedi, qui però c'è una finestra browser, quindi c'è un supporto di qualche tipo alla visualizzazione di pagine internet, perché questa è una pagina internet senza alcun dubbio, ed è la pagina per accedere al proprio account di Facebook, adesso io torno indietro, perché ho appena creato l'utente, quindi non mi serve in realtà creare questa cosa, inserisci il tuo indirizzo email o id utente, ok, hai collegato un account intendo al mio utente Lega Nerd qui, su questa roba, vediamo cosa succede adesso, il tuo account intendo ti permette di accedere alle funzioni seguenti, aggiungere amici e altre funzioni, notizie sui giochi e offerte speciali, Nintendo e shop, pubblicazioni di catture sui social network, molto bene, scrolliamo, perché amo giocare online, servizio online a presto forfettario, per Nintendo Switch arriva nell'autunno 2017, quindi ancora il gioco online a pagamento non c'è, funzioni principali di questo servizio, multijocatore online, organizza sessioni di gioco con gli amici e usa la chat vocale, provi i grandi classici, ogni mese un gioco diverso, bello, quindi si ispirano diciamo a PSN, ma anche Xbox Gold Live, risparmia con gli acquisti digitali su Nintendo Switch, quindi sconti anche, quindi esattamente con Comi PSN, prova gratis del servizio fino all'autunno 2017, potrei giocare online gratuitamente fino al lancio definitivo del servizio, non fate sfuggire questa occasione, ma certo che no, continua, vediamo un po' se riesco a vedere anche lo shop, Nintendo Switch, la password del tuo can Nintendo, salta questo passaggio dovrò in avanti, assolutamente che ogni volta deve inserire la password anche no, inserisco la password, ed ecco qua il Nintendo Shop, con dentro nulla ovviamente, uscite recenti, sta caricando, non si capisce bene, no, uscite recenti nulla, prossimamente ok, c'è qualcosa, registra un codice, semplicemente registra un codice, prossimamente vediamo un po' cosa c'è, va bene, Zelda, Bomberman, Super Bomberman, One Two Switch, Neo Geo The King of Fighters 98, data di uscita 33, va bene, Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo, questi quanti titoli retro, Shovel Knight, Hotello, tutti i titoli o indipendenti o retro, sono un po' a caso, sono tutti in uscite il 3 marzo, quindi domani, Just Dance 2017, Snipperclips, I am Setsuna, Setsuna anche, c'è anche Francesco qui con me, I am Setsuna, Setsuna, I am Setsuna, Blaster Master, Splatoon 2, vedi qualcosa che non era stato annunciato, non mi sembra, non ci sono novità sostanziali, non capisco perché ci sono tutti questi titoli qua, per il Neo Geo mischiati insieme agli altri, non ha alcun senso, probabilmente perché stanno ancora aggiornando la Virtual Console, cioè Metal Geo, esatto, adesso sorpresona, vediamo solo i titoli Neo Geo, allora intanto sappiate che Metal Slug 3, 6,99 euro costa, sembra un prezzo equo, anche perché, io per esempio, io Metal Slug, l'1, l'2, l'3, l'avevo preso per Wii, se non ricordo male, vabbè, comunque non ha importanza, non lo vedrò mai, volevi rigiocarli gratuitamente senza ripagarli, invece, ecco il cazzo, eh, 1,2 Switch quanto costa? 50 gocuse, per te, 99,99, però contiene un sacco di minigiochi, e ha quanti fatti il titolo che ti permette meglio di sfruttare l'H di Rambo, le funzionalità dei Joy-Con, Sì, Zelda costa esattamente come il negozio, Bomberman 50, Sì, sì, è il prezzo retail, comunque. Vediamo, allora, i titoli retro, diciamo, sono attorno ai 7 euro, quelli grossi, King of Fighter 98, però insomma adesso ragazzi, veramente non capisco. Attuale come non mai. Tutti 6,99 questi qui di Neo Geo, se è vero, sì, 6,99, quello l'ho già visto, Shawl Knight, 9,99, 24,99, Hotello, 4,99, Just Dance, vediamo, 59,99, non c'è molto altro mi sembra, c'è una lista di giochi e fine. Finiranno di aggiornare domani. Uscite recenti, non c'è nulla, vediamo se carica adesso per caso, cerca, c'è un cerca, vediamo se cerco, visto che c'è, nessun risultato trovato, si può ricercare o per keyword, poi si può indicare, indicare delle soglie di prezzo, max 9,99, tra 10 e 29 euro, minimo 30 euro, e per genere, arcade, azione, avventura, picchiadura, puzzle, corso, gioco di ruolo, simulazione, sparatutto da tavolo, strategie, piattaforme, musica, parte altro, ricerca per filtri, è quello che ho appena fatto, uscite recenti, niente, prossimamente niente, registra un codice, non ci interessa, non c'è veramente altro, vediamo se c'è qualcos'altro in più, rispetto a prima, direi di no, no, notizie, è comparso qui anche il nintendo shop, ben nintendo shop, e quindi fondamentalmente la grande novità di oggi è questa qui, che si può accedere al nintendo shop, e c'è già qualcosina, ma niente di particolarmente rivelatore, sappiamo che abbiamo visto prima l'introduzione, il nuovo sistema online di nintendo, assomiglierà molto a quello di sony, di microsoft, se sarà gratuito fino all'autunno, però esattamente cosa c'è dentro non lo sappiamo, sappiamo che darà accesso a un gioco mensile, a degli sconti sullo shop, e al gioco online, quindi veramente molto simile, a quanto hanno fatto già i concorrenti, quindi bene, brava nintendo, questo è il minimo che ci aspettavamo, però per il resto direi che non c'è altro da dire, ci vediamo nel prossimo video, ciao ragazzi!